Ci troviamo in via Bellotti, proponiamo questo appartamento che è stato completamente ristrutturato. Ci troviamo a un sesto piano, la porta è blindata e il riscaldamento è centralizzato. L'appartamento è stato completamente ristrutturato in tutte le sue parti, quindi entriamo nell'appartamento e c'è questa bellissima zona open, quindi abbiamo questo bellissimo divano di fronte a noi, sulla nostra sinistra la cucina, perfetta in tutte le sue parti, la cucina con questo piccolo tinello è dotata appunto di questa porta finestra, andiamo ad aprire la porta finestra, gli infissi sono in PVC con taglio termico, doppi vetri, questa è la vista che possiamo apprezzare dall'appartamento, dal poggiolo, un posto tranquillo, silenzioso, rientriamo nell'immobile, ci dirigiamo ora verso la camera da letto, dove c'è questo bellissimo letto matrimoniale e di fronte a noi questo ampio armadio dove riporre appunto tutti i vestiti. Usciamo dalla camera da letto e ci dirigiamo verso il bagno, abbiamo il box touch, c'è anche la lavatrice, quindi rifacendo un ripigolo veloce, usciamo dal bagno, l'unica camera matrimoniale che c'è, la camera da letto, la zona appunto open con la cucina e questa zona per godersi, come potete ben vedere anche c'è la televisione, questo è il corridoio, ci troviamo in via Bellotti.